E' una curva bellissima, i tifosi sono sempre di più e ci sostengono fino alla fine. E noi sia quando partiamo il primo tempo ad attaccare sotto la curva al secondo, non si sa perché, diamo qualcosa in più. E' arrivata questa vittoria e ringrazio i tifosi che ci sostengono sempre e che ci applaudono comunque vada la partita. Che soddisfazione è battere il Pisa con una prestazione come quella di oggi senza concedere praticamente niente all'avversario? Sì, sicuramente noi sapevamo di affrontare una grande squadra, forse la più forte del campionato insieme all'Ascoli. Eravamo preparatissimi, tutti concentrati e poi la partita era già stimolante di suo. E noi l'abbiamo messa sulla corsa, sulla grinta, sulle ripartenze. E poi anche la difesa è stata, ha fatto una grande partita e non abbiamo preso gol e secondo me questo ci ha aiutato. Ecco, finalmente dopo un periodo iniziale magari con qualche problemino adesso inizi ad essere davvero in forma. Come ti senti adesso e soprattutto come ti trovi qui a Pistoia con il mister e anche con tutto l'ambiente? No, io benissimo e li ringrazio, il mister, i compagni e tutti che mi hanno aspettato a guarirsi dal mio infortunio. Il peggio è passato, hanno iniziato a fare anche 90 minuti e quindi niente, io sono contento. Però non dobbiamo mollare di un centimetro e lavorare sempre come stiamo facendo. Grazie a tutti.